Monsignore, mi scusi, penso sia il caso che la pausa che ha chiesto non sia troppo lunga. Il sindaco si è appena dimesso e... Lo so, ma come ha detto anche lei bisogna valutare con molta attenzione la società a cui vendiamo. Sia il consorzio che lei ed il cigno di cui fa parte il suo marito. Certo. Magari una di quelle serate senza pensieri può aiutarla a velocizzare queste pratiche. Lo vogliamo fare stasera? Stasera? Perché no? Mi fa sapere lei? Ci penso io.